Imprenditore Vero, buon pomeriggio da Leo Cascio, da Giuseppe Gervasi, tredicesima puntata di Imprenditore Vero Facebook Live, dedicata all'intelligenza artificiale, vero Giuseppe? Sì, è benvenuti. Una puntata spettacolare perché abbiamo due ospiti magnifici, due veri esperti di intelligenza artificiale, ma prima di introdurli abbiamo un piccolo ospite a sorpresa che starà con noi proprio pochi secondi, ma giusto per capire, diciamo, trovare, ecco, vedere in live una delle applicazioni più utili forse dell'intelligenza artificiale. Allora, diamo il benvenuto a... Eccolo qui che entra... all'intelligenza artificiale di Google. Provo lei. Tu, Giuseppe, hai Alexa, vero? Io sì, ho la controparte al femminile. Vediamo se è la definizione di intelligenza artificiale che ci dà Google. Ok, Google? Cos'è l'intelligenza artificiale? Non risponde. Ok, Google? Una domanda scomoda. Cos'è l'intelligenza artificiale? Ecco qualche informazione su AI intelligenza artificiale. Nel futuro, un ragazzino robotico innovativo è programmato per dimostrare amore incondizionato. Rimasto solo in un mondo strano e pericoloso, inizia un viaggio alla ricerca della propria identità. Beh, diciamo che prima abbiamo fatto la prova e ha dato la definizione un po' enciclopedica, diciamo, di Wikipedia. Adesso si è inventata sta storia. Comunque, su questi piccoli bug o comunque esitazioni, ne parleremo approfonditamente con Roberto Marmo e Riccardo Piana, che sono i nostri ospiti. Allora, salutiamo Google e introduciamo... Perché poi lì ci sarebbe una guerra infinita, no? Tra gli amanti di Google e gli amanti di Alex. Grazie, ragazzi, per essere qui con noi. Grazie a voi per avermi invitato. Ben arrivati, ben arrivati. Grazie. Grandi, grandi. No, veramente, sono... Di solito si dice grandissime, no, veramente, sono due persone molto, molto competenti. Roberto lo conosco da anni, ho visto diversi suoi speech in vari eventi per l'Italia. Riccardo lo conosco un po' da meno, però ho già capito che lui anche... C'è una preparazione tecnica soprattutto molto, molto elevata. Allora, direi, visto che già ci siamo bruciati due minuti in chiacchiere, gli argomenti sono tanti, di introdurre il tema di oggi, proprio l'intelligenza artificiale. Vi faccio intanto delle domande così molto leggere, sia all'uno che all'altro. Iniziamo magari con Roberto. Roberto, cos'è intanto la tua... qual è la tua definizione di intelligenza artificiale? Troppo prima Google Home non è stato molto pronto da questo punto di vista. Che cos'è l'intelligenza artificiale, Roberto? Io partirei innanzitutto da cos'è l'intelligenza umana, di cui tutti quanti abbiamo l'esperienza, perché usiamo l'intelligenza umana per risolvere i nostri problemi, per cercare di avere una vita migliore, per raggiungere il nostro obiettivo. Facciamo dei ragionamenti, usiamo il nostro cervello, facciamo delle ipotesi, delle verifiche, e così via. Guardiamo il mondo con gli occhi, ascoltiamo l'audio, eccetera. E allora l'intelligenza artificiale è un modo di risolvere problemi che si ispirano al funzionamento del nostro cervello. Per cui cerchiamo di vedere come funziona il cervello umano e cerchiamo di riprodurlo all'interno di un computer. E così il computer potrà vedere oggetti, ascoltare la voce, ragionare, potrà così darci la soluzione a problemi che sono finora difficilmente risolvibili. Per cui è intentativo, nato da qualche decennio, dagli anni 40-50, di creare un cervello attraverso il computer. Siamo ancora molto lontani comunque, perché non conosciamo neanche bene come funziona l'intelligenza umana, figuriamoci se riusciamo a riprodurre. Però sicuramente, ultimamente, si sono fatti dei grossi passi avanti. Realizzando soluzioni a tanti problemi. Ma qual è la differenza, fondamentalmente, secondo te, tra intelligenza artificiale e umana? Direi che l'intelligenza umana ha l'aspetto positivo che è creativa. Si adatta a tantissimi problemi. L'intelligenza artificiale ci funziona bene quando è ristretta ad un certo contesto. Per cui non ha ancora quella elasticità, quella creatività che riesce a riprodurre il cervello umano. Noi possiamo passare a ragionare da un argomento all'altro, da un tipo di immagine ad un altro. Siamo molto più elastici. L'intelligenza artificiale è ancora molto rispettiva. Pensi che questo dipenda dal numero di neuroni? Sicuramente dipende da vari fattori. Da fattori culturali, dal modo in cui cresce la persona e anche dalla struttura dei neuroni. Nel senso che il nostro cervello ha miliardi e miliardi di neuroni. Soprattutto la connessione tra i neuroni, che è molto forte. L'intelligenza artificiale di oggi permette di creare reti neurali, ma sì, con migliaia e migliaia e migliaia di neuroni. Ma comunque ancora niente rispetto a quelle del cervello umano. Ma diciamo che questa forma di simulazione comunque non viene realizzata sul modello della corteccia cerebrale. Cioè con altri modelli, altre strutture. Cioè viene utilizzata un'infrastruttura che non replica quella neurale. O mi sbaglio? Sicuramente sì, il modello è comunque una rappresentazione della realtà che noi utilizziamo per poter affrontare la realtà e poter avere qualcosa di maneggevole da gestire. Se teniamo conto che ci sono 10 elevato alla 12 neuroni, un numero enorme di neuroni. Ci sono più neuroni che stelle nell'universo. E poi sono soprattutto collegati tra di loro in tantissimi modi. Magari quando arriveranno il calcolatore quantistico cambierà anche la struttura dell'hardware. Perché noi abbiamo ancora di che fare con un hardware tradizionale, diciamo così. Quando arriveranno magari i calcolatori quantistici e già adesso si comincia a parlare di intelligenza artificiale con l'hardware quantistico, lì magari ci potrebbero essere salti in avanti ancora forti. È tutto un progresso. Fino a pochi anni fa non se ne parlava. La rete possa mettere in connessione più dispositivi elettronici e quindi unire gli sforzi in un calcolo, no? Aumentando la componente, diciamo il numero anche di operazioni che possono essere eseguite in un istante, no? Soprattutto l'approccio connessionistico, dove noi parliamo di connessioni tra tante informazioni. Uno dei poteri forti nel nostro cervello è avere tante capacità diverse di ragionare, pensare, vedere con gli occhi, ascoltare l'audio, integrare tutte queste tipologie diverse in informazioni. E lo vedete che lo fa in poco tempo. Tenendo anche conto che comunque sia il cervello umano... Quando hai detto poteri forti mi è venuto in mente il G5. Diamo che il fatto comunque che questa nuova tecnologia velocizzerà ancora di più internet e quindi potrebbe anche aumentare ancora di più la velocità di calcolo e comunque tutto quello che anche riguarda l'intelligenza artificiale. Teniamo anche conto che il nostro cervello consuma relativamente poca corrente elettrica. È comunque una macchina fantastica per cui consuma poco il nostro cervello e invece questi calcolatori moderni hanno dei problemi di sostenibilità ambientali non indifferenti rispetto alla quantità di corrente elettrica, calore e tutto il resto che viene utilizzato. Ecco perché diciamo che l'intelligenza artificiale, per riassumere, si può ispirare in maniera molto larga il funzionamento del cervello umano, ma è giusto per dare uno spunto per far comprendere i meccanismi ma siamo ancora lontani da avere delle nostre repliche totali. Diciamo che è una simulazione molto artificiale, poco naturale. Magari meglio parlare di intelligenza appunto sintetica. Sintetica. Riccardo, invece qual è la tua definizione di intelligenza artificiale e che differenza c'è con quella umana? Io dico provocatoriamente che l'intelligenza artificiale non esiste fondamentalmente. Abbiamo dei modelli statistici gestiti molto bene che emulano alcuni aspetti direi quasi rettili del cervello umano. Siamo in grado di far fare delle macchine delle cose straordinarie che noi non potremmo assolutamente fare, ma assolutamente specialistiche. quindi siamo molto molto distanti dall'intelligenza artificiale che sogno io, che è quella che volevo da quando sono bambino, cioè il robot di AI che citava prima Google, quello che ti parla il bambino, che ti parla, che impara, che è cognitivamente superiore a te, cioè la famosa singolarità tecnologica. Io ho visto dei progressi straordinari perché ho fatto parte anche della generazione che ha avuto a che fare con la AI degli anni 90, quella scritta in list per prologue, che fondamentalmente era deterministica, cioè facevamo dei calcoli su delle matrici nella speranza che il computer capisse qualcosa. Abbiamo fatto dei passi straordinari avanti, però siamo molto legati innanzitutto alla necessità di avere molti dati e secondariamente alla specializzazione di questi, cioè siamo in grado di fare solo una nicchia di cose alla volta, l'intelligenza artificiale, l'ip learning, come volete chiamare. Ultimamente però sono venuti fuori dei metodi per cercare di avvicinarsi al generalismo, però ancora sono sperimentali fondamentalmente. Diciamo che una delle particolarità del cervello umano è la capacità di saltare da un argomento all'altro, creare delle connessioni, che sono anche delle scorciatoie per certi versi, proprio questa probabilmente è la vera differenza. Cioè appunto come dicevi tu, sull'applicazione dell'intelligenza artificiale e su particolari specifici problemi, però se noi diamo due problemi, possibilmente l'intelligenza artificiale non è in grado ancora di metterli in connessione tra loro, o due argomenti diversi. Ci sono ancora delle difficoltà da questo punto di vista, nel comprendere magari il significato, la comprensione vera magari dei termini o dei concetti e dei dati che noi gli diamo in pasto. Ma voi cosa pensate? Che in un ipotetico futuro comunque la singolarità tecnologica avverrà e se avverrà sarà un grosso problema per l'umanità, come qualcuno dice? Riccardo? Allora, io sono ottimista, quindi penso sì, avverrà. Sarà un'intelligenza comunque molto differente dalla nostra, sarà probabilmente un enorme... In grado di... E questi i problemi? Sì, però un enorme classificatore che è in grado di svolgere benissimo tantissimi compiti specialistici. Praticamente immaginiamoci una grande enciclopedia che è in grado da sola di scegliersi le pagine, di rispondere e di prendere anche delle decisioni. Quindi un super set di tutto quello che stiamo facendo adesso ovviamente è elevato a potenza. Sarà pericolosa? Io non credo. Io credo che un'intelligenza superiore alla nostra dovrà per forza essere benevola nei nostri confronti. Poi si spera, quantomeno. Certo, potrebbe esserci lo dischio che sia benevole al punto da essere una madre possessiva. Roberto, che pensi invece? Ma io penso come... Luciano De Crescenzo disse che lui crederà nell'intelligenza artificiale quando un computer saprà creare e capire le barzellette. Finora, quello sarà il vero test che secondo me... Secondo me è anche raccontarle. Perché non so se avrete provato a chiedere... Racconta una barzelletta a che Google non fa per niente rischio. Anche se magari la battuta è carina. Quello è il discorso dell'empatia. Certo, se la vediamo sul lungo termine potrà succedere che si arriverà alla singolarità. Io ci credo poco per quella che è la tecnologia attuale. Adesso, magari se la vediamo sul lungo periodo potrà anche succedere. Perfisco piuttosto a pensare all'intelligenza artificiale come qualcosa che adesso mi aiuta a risolvere problemi pratici. E quindi anche se non è così intelligente comunque quel minimo lo presente e così mi riesce a rendere la vita più comoda. Perfisco più quella che non magari a pensare a grandi sistemi. Per diversi decenni penso che per un po' di decenni parleremo di questo tipo di intelligenza artificiale. Non so se avete visto la serie TV e lo chiedo anche a Giuseppe la serie TV upload di Amazon Prime. molto carina che è uscita un paio di mesi fa dove si parla di diciamo in un ipotetico futuro neanche tanto distante prima della morte ci sono questi personaggi che hanno la possibilità di fare un upload di tutta la propria essenza la propria personalità il proprio carattere il proprio cervello sostanzialmente in una macchina che si trova in un cloud e quindi nel momento in cui muoiono in realtà sopravvivono in questo cloud dove esiste un multiverso quindi un universo virtuale dove effettivamente però sono rappresentati nella serie in tutto e per tutto come degli esseri immortali. La cosa fa un po' sorridere però potremmo arrivare è il sogno dell'uomo quello di essere immortale quindi certo l'intelligenza artificiale dipone dei problemi enormi perché significa che l'uomo replica se stesso senza nessun intervento divino quindi le questioni sarebbero molto profonde ma al di là di quello questo può essere un grande dibattito e la coscienza vedremo cosa ne esce poi. Giuseppe che dici tu? No dico che devo vederlo intanto questo film questa serie sì è una serie ci sono diversi film in realtà che hanno toccato questo argomento in cui addirittura non ricordo uno in cui accadeva una cosa simile ma sostanzialmente conservavano la coscienza delle persone perché sapevano che in un futuro non sapeva quando insomma sarebbe stato modo di rimetterla all'interno di un corpo macchina e quindi e poi effettivamente questa cosa accadeva ed era per certi versi anche un po' inquietante perché è soltanto riservato a certi ricchi che innestavano la coscienza su uomini poveri i piedi scorrendo insomma era una cosa un po' particolare carina c'è c'è lo scienziato che voi sicuramente conoscete Hiroshi Shiguro che ha si è replicato da solo ha fatto il suo c'è un robot identico a lui addirittura ha corretto dei difetti fisici che lui aveva al volto quindi la tendenza alla perfezione anche quando si replica se stessi è un po' è ridondante è un po' sta cosa penso che l'intelligenza artificiale a parte che sarà inevitabile che no è un po' la scommessa del futuro ormai tutto si muove si muove verso l'intelligenza artificiale abbiamo tutto intelligente il telefono intelligente il frigorifero intelligente tostapane intelligente il robot la cucina intelligente tutto intelligente abbiamo tutto intelligente però e lì ci sta il però un cancellativo si sta un po' abusando della parola bravo ah beh poi in termini di comunicazione è una parola che si trova su tantissimi prodotti ormai io ho una galleria youtube dove raccolgo tutti gli spot pubblicitari in cui si cita intelligenza artificiale c'era uno spot che lo dicevano tre volte in dieci secondi quindi cosa qui scusa botta i esatto esatto però tante volte ci secondo me questa paura che c'è un po' qualcuno c'è un po' di paura questa cosa ci potrebbe sì ma infatti era la domanda che stavo per farti allora a parte diciamo gli scenari apocalittici di cui abbiamo parlato però dico anche adesso anche lo stesso imprenditore che sai bene che noi insomma parliamo di imprenditoria e ci rivolgiamo all'imprenditore ha un po' di ignoranza non coscienza di quelle che sono effettivamente le caratteristiche intrinseche delle applicazioni dell'intelligenza artificiale quindi questa puntata vuole fare la sua piccola parte cercare di chiarire questi aspetti ma comunque il resto è il fatto che c'è questo timore è un po' infatti volevo chiedere a te ma perché c'è questo timore da cosa nasce questa paura credo che ci siano possano essere due motivi il primo è un po' hollywoodiano appunto perché abbiamo visto tutti questi film fino ad ora che ci presentano quasi sempre questi robot questa intelligenza artificiale che in qualche modo prende sopravvento e quindi siamo un po' guidati da quello che vediamo vediamo in tv e siamo guidati perché non conosciamo l'argomento non conoscendo l'argomento quello che ci danno lo prendiamo per buono e spesso e volentieri come sappiamo quello che non conosciamo ci mette paura in realtà io vedo nell'intelligenza artificiale esclusivamente come diceva Riccardo risolvere un problema mi semplifica la vita in un miliardo di modi l'imprenditore potrebbe approcciarsi in maniera molto basica a quella che è l'intelligenza artificiale utilizzando degli automatismi perché poi dico da profano l'intelligenza artificiale non sono intanto che una serie di automatismi che la macchina insomma mette in sequenza rispondendo a uno stimolo segnale eccetera che proviene dall'esterno poi sono tutti uno e zero alla fine quindi se io imprenditore capisco che posso sfruttare questa cosa potrei semplificarmi la vita e far sì che una macchina lavori al posto mio un giorno in più settimana e o avere un giorno libero in più o la settimana da 7 diventa 8 giorni e quindi essere più produttivo oppure piuttosto che qualcuno dice ma le macchine sostituiranno le persone no creano nuove figure è diversa la cosa si sparirà probabilmente il come ha già fatto Amazon per molte cose ha tutto robotizzato molti magazzineri non esistono più perché lo fanno le macchine ma ci saranno più tecnici che si occupano di quelle macchine quindi è una paura non paura l'intelligenza artificiale a parte che non la potremo evitare non sarà possibile pur volendo evitarla perché entrerà a forza nelle nostre case come con i telefonini è stato ricordate i primi telefonini quando c'era quello che girava col telefonino grosso così no una chiamata costava 60.000 lire e tu dici no io non lo comprerò mai mai oggi abbiamo dopo un anno ce l'avevano tutti con pulsantino ce l'abbiamo ce l'ha pure mia nonna e l'intelligenza artificiale mi fa stare al sicuro perché mia nonna spiace un pulsantino parte 10 chiamate 20 anni fa non c'era c'è questo sistema che ci aiuta quindi in realtà o anche prima l'imprenditore non deve assolutamente temere lo deve vedere come una come una uno strumento per migliorare le performance migliorare la progetto liberarsi del tempo delle cose che può anche delegare o le delega delle persone o le delega delle macchine se possono delegabili infatti di questi aspetti più pratici ne parleremo alla fine con Riccardo perché la sua user bot effettivamente sembrerebbe risolvere buona parte di questo problema se non tu diciamo un case study proprio di questo però prima Riccardo prima di venire a te io volevo visto che Roberto comunque è molto molto un grande conoscitore anche teorico anche pratico perché comunque sa il fatto suo anche come programmatore sicuramente no Roberto le cose bisogna anche costruire dalla carta bisogna poi farle diventare concrete eh sì però sei anche un grande divulgatore e allora ti faccio un po' di domandine un po' perché per dare modo al nostro pubblico di capire di cosa si tratta che cos'è il machine learning si parla di machine learning no? e come funziona e poi che cos'è il deep learning e come funziona quindi anche le differenze diciamo che intelligenza artificiale è una grande parola che contiene all'interno tante tecniche per fare i calcoli tra queste tecniche per fare i calcoli c'è machine learning c'è deep learning ma ci sono anche tante altre che vanno utilizzate sì sono le parole che adesso si sentono più frequenti perché sono quelle che si sono di più che danno anche sicuramente degli ottimi risultati tutto questo fa sì che magari si possano risolvere dei problemi molto molto interessanti per esempio anche parlando della nonna di prima si diceva capire anche quando la nonna cade per terra oppure chi deve gestire magari una flotta di veicoli una gestione di flotta di veicoli può calcolare per esempio il percorso ottimo per non sprecare benzina e pagare meno spese quindi si tratta di perché sono diventati molto comodi perché si tratta di usare quello che si chiama apprendimento se noi guardiamo come impara un bambino che all'inizio non sa fare niente va a scuola studia c'è un maestro che gli insegna quello che deve fare poi il bambino fa gli esami ottiene un voto e poi dopo il bambino va a lavorare e così è il machine learning machine learning significa prendere una macchina che all'inizio non sa fare niente diciamo che è stupida chi si trasferisce un combito specifico la macchina impara ma la mano studia supera degli esami quando vediamo che la macchina ha imparato allora prendiamo questa macchina e la mettiamo a lavorare questo si fa quando? quando abbiamo dei problemi molto complicati di cui magari noi non abbiamo la soluzione diretta se pensate per fare un esempio rapido all'addizione dovete calcolare la somma tra due numeri cosa fate? prendete la somma e calcolate il risultato 3 più 2 uguale 5 con il machine learning che cosa dovete fare? dovete preparare l'input 3 e 2 e la soluzione 5 non avete bisogno della formula matematica che non sceglie i numeri quindi con machine learning è diventato famoso perché voi date l'ingresso l'uscita e la macchina impara il legame tra l'ingresso e l'uscita e una volta che l'ha imparato poi quando avrà davanti i dati nuovi saprà rispondere in maniera molto efficace il deep learning che si sente molto in giro è una delle tecniche di machine learning e si rifà le reti neurali che abbiamo detto all'inizio nel centro dell'umano cioè non è che capisce che 2 più 3 fa 5 no se parla di comprensione e di quello che succede è un altro discorso le macchine attualmente non comprendono quello che succede si fanno diciamo un'idea su chiave statistica di quello che succede non è una comprensione reale naturalmente perché allora vedono solo passare una serie di numeri però quello che riescono a analizzare su base statistica è una forma di apprendimento per cui la risposta nel tempo migliora si avvicina sempre di più alla risposta che noi vogliamo naturalmente la macchina non sa se stai parlando di mutui se stai parlando di sensori se stai parlando di qualsiasi problema lui tratta soltanto i numeri che gli passano davanti quindi nessuna macchina ha una comprensione come noi la intendiamo dal punto di vista umano di comprensione di quello che ci passa davanti però è comodo perché questa elasticità riusciamo a dargli questa elasticità di apprendimento per cui riescono a imparare seguendo la scia dell'apprendimento umano dal punto di vista più pratico cioè come è possibile creare un algoritmo di intelligenza artificiale cioè proprio a parte che ti chiederei anche tu cosa utilizzi e cosa consigli di utilizzare magari per uno che volesse cimentarsi in questo campo però dico anche dal punto di vista informatico qual è l'approccio quello di creare dei flussi dei cicli degli if then e comunque dargli in pasto un'enorme quantità di dati che vengono continuamente cioè l'approccio è sempre quello elaborazione diciamo che la grande maggior parte del tempo sono i dati perché l'intelligenza artificiale è un motore che ha bisogno di una benzina molto buona ma la maggior parte del tempo che io spendo è proprio per trovare la benzina cioè trovare i dati e poi dargli una bella pulita per capire che cosa c'è dentro la programmazione software io la faccio proprio alla fine quando già le idee chiare su quale problema bisogna risolvere e come lo risolve la persona e poi come lo vogliamo far risolvere al computer poi si passa ad analizzare i dati pulire i dati trovare i dati e lì c'è una fatica enorme infine l'ultimo passo è proprio la scrittura del software perché però lì ormai ci sono tutti i software che volete in python java c ogni programmatore può scegliere il linguaggio che vuole però l'intelligenza artificiale richiede soprattutto intelligenza nel programmatore nello studiare il problema studiare i dati capire quello che bisogna fare come valutare le risposte eccetera eccetera e alla fine l'ultimo passo poi è quello della programmazione purtroppo succede che magari molta gente si butta direttamente a scrivere il software senza ragionare ma l'intelligenza artificiale è innanzitutto un risultato dell'intelligenza del programmatore cioè sicuramente non si riduce il tutto a una serie di if then no? che poi magari succede poi che purtroppo succede anche che qualcuno vende soluzioni fatte con if then e tutto il resto spacciandole per l'intelligenza artificiale purtroppo dovrà anche fare l'aperito in alcune cause e discussioni perché vende un software dicendo intelligenza artificiale poi lo apro dentro e trovo quattro righe di vabbè sì ma purtroppo magari quando poi questi termini diventano di moda magari c'è gente che magari ne approfitta un po' troppo sì no ma poi ci sono anche un po' di diverse fuffe truffe diciamo che utilizzano il termine intelligenza artificiale ecco magari l'imprenditore deve stare attendo alle professionalità che coinvolge le scommesse lasciamo stare anche un mondo no no sicuramente l'imprenditore deve stare attendo alle professionalità che coinvolge perché oggi appunto tanta gente si alza la mattina e dice io programmo intelligenza artificiale quando non è solo una questione di programmare il software c'è tutto dietro un processo di ragionamento di elaborazione e tutto il resto sì vabbè certo dall'oggi al domani non è che uno si metta a creare la mia era una domanda molto semplificata ma se uno volesse comunque avvicinarsi a questo mondo a parte sicuramente leggere i tuoi libri il tuo libro e poi con la marchetta poi alla fine poi magari facciamo vedere anche la copertina del tuo libro però dico anche ovviamente avere una solida base sviluppare una solida base informatica perché chiaramente si parla di coding e anche matematica e statistica sicuramente eh sì quindi diciamo è un qualcosa che include tante discipline e non basta studiare solo una cosa per farlo invece Riccardo io a parte che vabbè inutile farti le stesse domande perché penso che sarai più che d'accordo con quello che ha detto Roberto e con te invece mi butterei più sull'aspetto pratico e all'inizio hai visto Google Home cimentarsi in una risposta come sai non è stata proprio una risposta perfetta però può darsi perché magari non abbia sentito neanche bene ma ti chiedo come fa Google Home a capire le nostre parole tra l'altro tu sei specializzato proprio in questo campo mi sembra di capire riconoscimento come fa Google Home intanto Google Home non è un AI è un insieme di varie strutture di AI la prima fondamentalmente cosa fa riceve uno stream audio ed è in grado di convertirlo in un testo fondamentalmente quello che chiamano speech to text o text to speech perché è questo perché abbiamo grossi enormi moli di dati sul web che sono fondamentalmente testuali e quindi è più utile avere il big data testuale che un big data parlato che sarebbe difficile raccogliere e anche difficile a interpretare per stare e poi una risposta quindi la prima la prima parte diciamo della AI di Google o di Alexa o di qualunque altra cosa è semplicemente trascrivere il testo parlato il parlato in un testo poi ci sono due altri due ulteriori livelli in genere in queste macchine uno non è intelligenza artificiale proprio l'IFVAN perché devono capire dei comandi specifici quindi se il comando è riproduci musica difficilmente si rivolgeranno a un natural language understanding per capire il comando quello cercheranno proprio delle apposite keyword che hanno un po' generalizzato ciò che però segue il riproduci musica è tutta un'altra questione perché di solito è una frase compiuta la frase compiuta viene classificata da un intelligenza artificiale che sia un machine o un deep learning e sulla base di quanto questo classificatore è confidente su una cosa o su un'altra viene presa una decisione da questo motore che poi scaturisce nella risposta la risposta è programmatica può essere cerca su wikipedia cerca su google riproduci un brano musicale eccetera questa classificazione viene chiamata solitamente classificazione per intenti cosa sono gli intenti sono tutto ciò che una serie di domande può far scaturire in un'unica risposta o azione diciamo che quindi in realtà non è una vera e propria intelligenza artificiale però per esempio google utilizza dell'intelligenza è quella che chiamiamo intelligenza artificiale attualmente naturale ma invece che cos'è un bot un bot che cos'è allora bot è una definizione molto generica e anche chat bot ecco bot significa che automatizza qualcosa e che non è però nel campo dei robot cioè non ha una sua fisicità si bot è molto generica è un chat bot quindi predisposto per quello che è il linguaggio lo scambio insomma il dialogo con l'uomo con le persone un chatbot è qualcosa che interagisce con l'utente attraverso una chat noi forniamo una soluzione user bot che fondamentalmente fa customer service quindi cosa fa classifica esattamente come fa google home o alexa il testo che viene digitato cerca su una base di domande che vengono nel nostro caso aumentate automaticamente e trova un intento che sortisce una risposta che può essere un testo una forma un'immagine lo scaricamento di un documento la richiesta di dati per che ne so un tracking o un la compilazione di modulo eccetera alla fine è un meccanismo di AI molto semplice e anche molto commercializzabile va certo meglio degli friend va meglio della possibilità di inserire solo dei tag delle parole per rispondere come si faceva nei bot anni 90 è in grado di capire anche domande abbastanza complesse ma sempre con risposte fisse non autogenere le risposte quindi è fondamentalmente una base dati che viene interrogata con linguaggio naturale ma secondo te diciamo oltre a far risparmiare tempo e migliorare le prestazioni riesce a dare anche un valore aggiunto nel senso che magari riesce a fare di meglio fare meglio di un ipotetico operatore in carne ed ossa perché magari riesce a rispondere meglio alle richieste della clientela allora principalmente un chatbot è in grado di rispondere a infinite persone contemporaneamente è in grado di rispondere a cose noiose ripetendo sempre le stesse procedure noiose che un essere umano dopo la quinta direbbe basta mi voglio sparare o licenziare e almeno nella nostra esperienza professionalizza chi invece prima era un operaio di bassa soglia cioè quello che prima rispondeva alle chat e doveva rispondere cento volte al giorno a ho perso la password come faccio a recuperarla per esempio un caso molto semplice oppure open fiber quando mi arriva la fibra per dire cosa succede succede che invece questo personaggio che prima era diciamo abusato dai suoi stessi clienti e quindi si trovava a rispondere sempre costantemente alle stesse cose a un lavoro veramente deprimente ora si trova invece a affrontare solo le questioni a cui il bot non è in grado di rispondere quindi di solito problemi seri altamente professionalizzati e per cui c'è bisogno di un ragionamento umano quindi si trova ad avere molte meno richieste a doverci riflettere e a poter poi una volta che ha risposto ripassare il bot nel caso l'utente ponga di nuovo domande stupide guarda guarda Riccardo io mentre tu spiegavi ho preso il link da YouTube dal vostro canale del vostro spot diciamo che spiega comunque io se se tu sei d'accordo e se vogliamo vogliamo perdergli questi due tre minuti direi di metterlo così lo facciamo vedere anche i nostri ascoltatori perché non è una una reclam ma comunque spiega anche da valore spiega anche come funziona effettivamente l'intelligenza artificiale che avete realizzato qualcuno potrebbe anche non conoscere questo sistema qua e magari scopre che moltissimi moltissimi cioè molti magari sanno che esiste ma non effettivamente non si rendono conto di come funziona e quale può essere l'utilità di averla insomma allora facciamo che però nascondo Roberto ti nascondo un attimo anzi lo metto proprio a schermo intero quindi nascondo tutti e lo lanciamo e poi ci sentiamo dopo ok clienti di un'importante azienda che cos'è? è la richiesta di assistenza di un cliente ti dispiace? dicevo la vita di Giovanna è una continua lotta nel tentativo di soddisfare qualsiasi domanda qual è il problema? che se da una parte abbiamo una Giovanna dall'altra abbiamo tanti clienti con esigenze diverse e non ho tempo da perdere aspettative diverse facevo prima ad aggiustarmelo da solo personalità diverse odio tutti tutti d'accordo su un punto vogliamo una risposta adesso vi prego aiutatemi non ce la posso fare fazzoletto? oi miei grazie insomma l'avete capito la comunicazione tra brand e cliente così com'è non funziona perché le aziende si trovano da una parte con professionisti come Giovanna costretti a lavorare come in una catena di montaggio sempre le stesse domande e dall'altra clienti che giustamente si aspettano la massima attenzione e se non arriva subito si sentono insoddisfatti ma allora com'è possibile che abbiamo le macchine che guidano da sole i frigoriferi che ci mandano una mail per dirci che lo yogurt è scaduto le case che ci parlano in 124 lingue diverse e sull'assistenza clienti siamo ancora messi così bene ecco a voi Userbot il primo customer service con una vera intelligenza artificiale figo non ho capito adesso te lo spiego Teresa qual è il tuo problema? ho ordinato un frullatore online e non arriva più punto esclamativo ma abbondiamo pure due punti esclamativi Teresa in meno di un secondo riceve una risposta ciao Teresa ci dispiace per l'inconveniente verifichiamo subito qual è il numero d'ordine? si avvia così una conversazione in cui Teresa ottiene le informazioni giuste con anche il tono giusto le sembrerà di parlare con una persona ma in realtà si tratta di un'intelligenza artificiale e mi ha anche consigliato una ricetta ma come ha fatto? prendiamo una pianta questa è Userbot appena nato basta inserire domande risposte frequenti nella dashboard poi l'intelligenza artificiale da sola pensa a tutte le altre variazioni sul tema questa invece è Userbot dopo appena 5 settimane e sì perché Userbot cresce in fretta e sviluppa una propria autonomia scusi sì? ma se ho una giornata no? se ho voglia di piangere? se ho voglia di spaccare tutto? Userbot riconosce il sentimento dell'utente e sa parlare con il giusto tono e se faccio una domanda difficilissima? qui ti volevo ovviamente può capitare se fai una domanda alla quale non sa rispondere l'intelligenza artificiale invia una notifica a Giovanna ma a quel punto Userbot impara la risposta e la prossima volta fa da sé ma è fidanzato questo Userbot? Userbot diminuisce in media del 30% il carico di lavoro degli operatori umani lui fa lavoro sporco e tu puoi pensare alle cose più importanti come va? oggi ho risolti i problemi di un intero ufficio fatto consulenza a 20 nuovi clienti e già che c'era oppure iniziato un corso di cinese xin xin Userbot ah non vi ho detto che dietro Userbot ci sono loro un grande mix di menti creative e brillanti è tutto made in Italy l'intelligenza artificiale fatta dagli umani per gli umani diventa nostro socio investi in Userbot ops l'avrò mica rotto? mi sa che ho un'altra domanda allora rientriamo rientriamo in studio hai visto Giuseppe? devo fare complimenti la comunicazione è pazzesca sono una delle tante problematiche dell'intelligenza artificiale probabilmente mi sembra di capire che siete forse i leader del settore per quello che è questo tipo di prodotto specifico no Riccardo? beh almeno in Italia diciamo che siamo comunque sicuramente tra i primi abbiamo anche prodotto della documentazione per evitare che succeda poi di essere confusi con altri soggetti quelli che diciamo con le IF vengono indietro abbiamo fatto dei test con dei corporal standard tra i la nostra soluzione è quella dei maggiori competitor e siamo sempre come minimo mediamente uguali quasi sempre superiori a competitor del calibro di Dialogflow di Google di Watson di IBM di Botfuel e altri vi do anche un link con i nostri test che stanno sono in corso di certificazione lo mettiamo in chat magari alla fine quando finisce questa live lo mettiamo così chi vuole può sono in corso di certificazione presso un'università giusto per essere un pochino più chiaramente io personalmente ma molti di questo gruppo sono piccoli imprenditori partite IV diciamo che l'attività più strutturata probabilmente può trarre più vantaggi da una soluzione del genere invece per il singolo imprenditore che ha magari il proprio blog o la propria pagina Facebook dove alla fine non ha molti lead tu lo consigli perché tra l'altro è una domanda che ha fatto anche un nostro ascoltatore che è un avvocato te la leggo anche la domanda lui dice allora è qui si la mettiamo diciamo si legge una parte la leggo per intero io quindi premetto che sono un avvocato perché ho un sito internet pagina Facebook e canale YouTube ne sono già a conoscenza per amici di Giuseppe ho provato ad utilizzare qualche sistema semplice automatizzato a seguito dell'apertura del video il consumatore veniva indirizzato cliccando semplicemente su una delle tre risposte al suo servizio da lì poi proponevano in automatico il servizio specifico cosa ho notato che la maggior parte delle persone si perde si infastidisce e dopo il mio personale intervento non rispondono più secondo te nel mio ambito sarebbe più utile un contatto diretto Riccardo cosa vuoi dire diciamo allora diciamo che per i privati o comunque per i singoli professionisti che non hanno necessità di un customer service continuo preciso il contatto diretto è sempre auspicabile è chiaro però che noi siamo esseri umani dormiamo mangiamo usciamo con gli amici Usabot può comunque esserci mentre tu non ci sei risponderti è molto importante è molto importante secondo me che si identifichi come tale cioè che non ti dica sono Giuseppe no ti dice sono Usabot sono un sono l'assistente virtuale la versione intelligente di un disponitore automatico sto cercando di fare per te del mio meglio e poi ti farò contattare dall'interessato quindi diciamo non è solo per i brand ma anche i personal brand possono trarre vantaggio effettivamente non avevo pensato a questa eventualità cioè il fatto che magari noi siamo perennemente connessi però dico magari 7-8 ore a notte dobbiamo pur dormire se abbiamo un'attività che magari è internazionale dove c'è anche il fuso orario e ci contatta uno da Taiwan e magari si aspetta di avere un minimo di risposta sicuramente può aiutare nell'ottica del nurturing e comunque della creazione comunque del primo contatto se nel sito in questione o nella pagina produciamo dei contenuti Usabot è in grado di apprenderli e di rispondere a tema su quei contenuti questo come si usa di solito uno ti fa una domanda che per te è banale ma per lui no perché magari non è del tuo settore tu hai scritto un bellissimo articolo al riguardo e Usabot ti risponde magari brevemente con tre righe e ti dice guarda c'è anche questo articolo qui che puoi leggere è molto utile perché c'è una specie di rapporto confidenziale in chat che altrimenti non c'è in un sito per quanto possa avere un motore di ricerca il motore di ricerca viene considerato molto più gelido di mettersi in una chat e fare delle domande invece lì fai delle domande e ti porta magari al tuo articolo del blog e ti consente di leggerlo tranquillamente e poi Usabot rimane sempre lì nell'angolino e quindi puoi fare le altre domande e mantenere anche sul tuo sito più tempo il chi volesse approfondire comunque l'argomento Usabot Usabot punto ai e comunque c'è modo anche di mi sembra di capire anche di provare il servizio comunque c'è una possibilità comunque di fare questo c'è una variante assolutamente gratuita che chiaramente ha delle limitazioni e poi c'è la possibilità di provare per il prodotto per un certo periodo acquistando una versione light o pro poi vabbè ci sono se siete dei corporate ci potete contattare ovviamente io invece volevo interpellare per così ci avviamo sul finire insomma della live Roberto perché ho visto che tra i vari interventi che ha fatto in giro per l'Italia ne ho visto casualmente uno che parlava di SEO e di intelligenza artificiale quali sono quindi ti faccio questa domanda quali sono i rapporti tra intelligenza artificiale e SEO come funziona l'intelligenza artificiale di Google dal punto di vista proprio della risposta che dà a quelle che ormai sono non più ricerche ma frasi non parole ma frasi di ricerca sicuramente vengono stati sistemi di deep learning molto potenti che vanno a cercare la struttura della frase e poi cercare di capire per quando è possibile l'intenzione della persona soprattutto il problema grosso è quello delle ambiguità perché una parola può avere tanti significati poi metti insieme tutte le parole e cerchi di costruire la frase lato SEO ci sono molte discussioni io mi sto occupando in particolare lato SEO per quanto riguarda le immagini perché anche le immagini oggi vengono acquisite nell'intelligenza artificiale vengono estratte delle parole che descrivono il contenuto delle immagini per cui sicuramente andare a vedere quali sono le parole più adeguate per facilitare il lavoro dell'intelligenza artificiale questa può essere un'ottima ricerca fare in modo che così noi creiamo delle parole chiave che sono quando meno ambigue poco ambigue in modo che quando vengono dati in pasto a Google eccetera riesci a lavorarle meglio e anche per quanto riguarda le immagini per esempio Google ma anche Facebook e tutti gli altri hanno delle possibilità di entrare nella nostra immagine e trovare gli oggetti che compongono la nostra immagine dove sono e così via quindi oggi diventa importante creare delle immagini in maniera particolare che vengono mandate a Google e Facebook e loro possono capire meglio cosa c'è dentro e così le nostre immagini vengono ancora di più premiate e diffuse sicuramente a proposito di immagini immagino immagino scusate il gioco di parole che per esempio app come FaceApp utilizzino intelligenza artificiale sì sì ma si è andato sul sito web di Facebook nella suo blog dedicato all'intelligenza artificiale perché anche Google ha un blog dedicato all'intelligenza artificiale e Facebook vi racconto come loro fanno a tirare fuori la descrizione dell'immagine loro l'hanno fatto per aiutare le persone diversamente abili che non possono vedere l'immagine e ascoltano la voce che gli racconta il contenuto dell'immagine però chiaramente noi per poter far funzionare questo meccanismo dobbiamo dare delle immagini con luminosità contrasti fatte in certo modo così che Facebook può capire meglio quello che c'è dentro per evitare che poi noi diamo l'immagine con certe cose Facebook tra le leggi in maniera diversa e naturalmente anche dal punto di vista del lato SEO più Google trova le informazioni che vuole organizzate nella maniera che lui comprende facilmente e più premia il sito web che sono nei risultati di ricerca ma tu in 30 secondi riusciresti a spiegare come fa Facebook come fa FaceApp a invecchiarci o farci diventare donna per esempio ci vorrebbe qualche slide con qualche immagine ma che si tratta di reti generative tipo gun adversariale un po' complicate da spiegare a parole certo ci vorrebbero non so quante slide quante lezioni però sostanzialmente quello che succede e quello che è importante per Facebook raccogliere quante più immagini possibili perché più immagini raccoglie e più riesce a perfezionare questi sistemi in realtà anche lì si tratta di fare fotomontaggi più sofisticati poi naturalmente un esperto va a guardare meglio per esempio la dimensione delle pupille e tanti altri piccoli dettagli per capire se è un'immagine artificiale oppure realistica perché poi c'è anche il problema delle immagini fast che circolano eccetera magari provo a rendermi donna magari mi mettono dei capelli quei capelli lì possibilmente sono appartengono realmente a qualcuno se tu la guardi da nel senso me l'ha datata diciamo perché magari l'immagine andava bene per quella per quell'immagine qualcosa del genere presto a poco diciamo che se tu guardi l'immagine nel suo complesso non te la accoggi se poi ingrandisci i dettagli diciamo che quello che fanno sono algoritmi che sono sempre stati usati per vedere magari che so far avanzare l'età delle persone vedere come il volto che avranno più avanti usano algoritmi di ricostruzione del volto tecnologie utilizzate sono tantissime e complicatissime da realizzare naturalmente loro hanno realizzato una versione gioco ma queste tecnologie vengono usate anche per ambiti di forensici di indagini e tante altre applicazioni tornando al lato SEO sicuramente quello che può succedere è di attrezzare le frasi per fare in modo che quando poi finiscono in mano questi algoritmi l'intelligenza artificiale vengono compresi meglio da questi algoritmi va bene comunque mi sta affondendo il cervello con tutti questi discorsi no vabbè scherzo però Giuseppe è bella tosta sta puntata tanti piccoli tanti spunti tosti però interessanti bisogna bisogna pure affrontarli anche l'imprenditore della strada queste cose deve cercare di capire volevo aggiungere un piccolo suggerimento più che altro per avere una visione diversa per l'amico avvocato e dire che sicuramente nella sua attività credo che un automatismo un bot quello che sia insomma possa in qualche modo tornare utile la cosa che probabilmente le persone percepiscono e quindi magari scappano è la mancanza di un sincero interesse cioè come diceva prima Riccardo se mentre dormo il bot fa una parte del lavoro per me ma una parte allora probabilmente ho ottenuto caldo il potenziale cliente se pensiamo che il bot invece va a smazzare tutto il mio lavoro a quel punto salvo che tu non debba come nell'esempio del loro video che è molto bello no? faccio la domanda dove è il mio prodotto allora mi rispondi dammi il codice tracciabilità insomma e sono dei dati molto semplici probabilmente ma in un avvocato io cerco la fiducia il rapporto fiduciario con l'avvocato è molto intimo riesce con un avvocato piuttosto che un altro ipoteticamente gli avvocati dico ipoteticamente sanno le stesse cose ipoteticamente ok? poi fa molto la persona quindi se in qualche modo io mi sento un po' posteggiato magari è quella la sensazione io non lo so adesso leggevo un po' il messaggio che ha mandato lui in aggiunta ma molto rapidamente magari la sensazione è quella è la mancanza di sincero interesse col sincero interesse catturiamo il cliente in questo caso anche perché poi ci dobbiamo lavorare nel suo caso dobbiamo trattarlo come se fosse nostro e allora io che ho un problema X voglio che tu avvocato lo prendi come se fosse tuo cioè tu mi fai percepire che è tuo il problema probabilmente in quel contesto lì l'uso del bot è un po' forzato ci sarà un modo penso per io per esempio posso dirti che in una delle mie attività gestisco un team di 40 persone e l'esempio che faceva poco fa Riccardo era bellissimo lo stesso mio mi fanno 50 volte le stesse domande sempre le stesse arriva un collaboratore nuovo le stesse domande su Telegram ho messo un bot risponde da solo il problema è risolto sì il più delle volte in realtà le facche sono sufficienti il problema è che l'utente spesso non va a cercare non va a cercare le cose non va a cercare allora preferisci magari il messaggio diretto e andare a cercare io ho risolto in quella maniera lì se avessi un'attività un e-commerce per esempio assolutamente mi rivolgerei a Riccardo per il suo sistema che lo trovo eccezionale dico alla fine si riduce tutto a vendita di servizi che fanno risparmiare tempo perché poi alla fine è quello il punto tutte queste cose servono a risparmiare a risparmiare tanto tempo assolutamente sì va bene io direi siamo quasi a un minuto ragazzi è stato bellissimo chiacchierare con voi grazie per il valore che avete dato a questa chat io volevo chiudere intanto ricordando a chi ci ascolta che è userbot.ai è comunque il sito della start-up userbot dove tra l'altro forse Riccardo si può anche investire o è comunque chiusa la fase di investimento abbiamo chiuso il round da un po' però chiuso però insomma se ne può sempre parlare parlare invece io metterei una slide con il libro di Roberto così lo facciamo anche vedere Giuseppe ti oscuro per un secondo così lo mostriamo eccolo qua algoritmi per l'intelligenza artificiale e c'è anche il link per eventualmente andare a approfondire anche quello che è l'attività divulgativa del caro Roberto va bene è stato un vero piacere aspetta che riprendo Giuseppe mi ha fatto di nuovo il conto alla rovescia va bene grazie ancora per tutto e ci vediamo sempre mercoledì prossimo su questi schermi a questa ora grazie a che ci ha ascoltato ovviamente ci sono stati un po' di lettori però visto l'argomento le domande non erano proprio semplicissime però ovviamente ci sarà la replica basta comunque questo video rimane poi verrà anche pubblicato su youtube quindi comunque la chat è aperta per eventuali domande sicuramente Roberto e Riccardo avranno il piacere di rispondere ancora grazie ciao Giuseppe alla prossima e grazie a voi Riccardo e Roberto ciao Leo grazie a voi è stato un piacere grazie a voi